Musica Torna anche quest'anno la mostra dei presepi e degli alberi di Natale organizzata dalla parrocchia di San Bartolomeo Apostoli in San Bartolomeo al Mare presso il centro pastorale della Divina Misericordia. Il successo dell'esposizione, giunta al sedicesimo anno di vita, si basa sulla voglia di vivere e la nascita di Gesù, il grande evento che ha cambiato e cambia ancora la storia, attraverso la fantasia e gli attacchi d'arte, proseguendo e rinvigorendo una tradizione, quella dei presepi, che è alla portata di tutti. Negli ultimi anni, poi, gli organizzatori hanno aperto l'esposizione agli alberi di Natale per arricchire la mostra di un simbolo ormai consolidato anche nella tradizione natalizia italiana. In questa edizione 2018, la mostra conta più di 30 opere, ognuna diversa per materiali e dimensioni, ma tutte interessanti e fantasiose. La mostra è aperta al pubblico e tutti possono esprimere una preferenza. Il 6 gennaio 2019, alle ore 11, ci sarà la premiazione dei vincitori, ovvero delle natività e degli alberi che, nelle rispettive categorie, avranno ricevuto più preferenze. La mostra, allestita a San Bartolomeo, potrà diventare occasione per visitare il paese e tutta la Valsteria, in un tour artistico-culturale che, oltre ai vari presepi, permetterà di scoprire diversi borghi dell'entroterra. La mostra dei presepi e degli alberi di Natale è aperta verso il Centro Pastorale della Divina Misericordia in via Martiri della Libertà 35, fino al 5 gennaio 2019, dalle ore 15 alle 18.30, il 31 dicembre, dalle 15 alle 17.30. Grazie a tutti!